In generale no, ma per il tipo di brawler qui, non so se mi intendo. Poi qui c'è Gelindo, se con la super ha un raggio così e lungo così, come per me diventa un raggio più corto ma più alto e più alto più alto di vento. Vedete che qui il nuovo robot è molto indietro. Adesso guardate con i robottini piccoli che c'è solito avanti. Poi qui davanti fa 3-3-60. Guarda qui. E se non mi sbaglio li ho fatti tutti. Andiamo qui a controllare ma dovrei averli fatti tutti. In mezzo l'ho fatto. Ho fatto anche quello di poi, ho fatto anche se, ho fatto anche quello di poi, ho fatto anche se, ho fatto preco, ho fatto quello di qui, ho fatto che ci siamo. E quindi direi che il nostro video può finire qui. Vi ho raccontato tutto, anche il nuovo robot del Clancy e Barry. Qui il bolt walk vi spiego anche dove potete vederlo. Qua, insieme a un giorno fa del video, cioè è una giornata bellissima. Se cliccate sul bolt walk, la scritta rossa, che c'è stato stavato scorso alle 5, potete vedere il nuovo robot che dura 9 minuti. Alla prossima per un altro video. Chi lo sa se è flick-pick o normale. Ciao! Ciao!